Tesoruccio! Ah, sei tu, Tinetta? Già, dovevo aspettarmelo Mi avete spaventato, idioti Come mai sei qui tutto solo, John? Unisciti a noi e faremo scintille In che senso? Abbiamo tutto il necessario creme sonari, lozioni, macchina fotografica, palla, gelati ci sono anche occhiali da sole, radioportatile e inoltre diversi pacchetti di patatine e popcorn Oggi la nostra spedizione, ragazze, non può fallire Sono due poveri illusi Che bambola, ci facciamo tutto bellezza Aspettaci, fermati Accidenti, ci mancavano anche loro